barone vassallo 4 gennaio 2023 buonasera a tutti allora vorrei fare una domanda ai nostri iscritti e a tutti coloro che seguono questo canale perché vengo da una discussione discussione intesa come ragionamento con un mio cliente come molti sanno io ho un'enoteca quindi si fermano molte persone si parla si discute si ragiona e oggi stavamo parlando di un fatto allora voglio farvi questa domanda voglio porvi questa domanda partiamo dalla fine degli anni 70 fine degli anni 70 quindi l'ottava la nona la decima legislatura fino a salire all'ultima di quest'anno voglio chiedervi cosa hanno in comune i governi che vi sto per annunciare in linea generica tutti quanti cosa hanno in comune allora ottava legislatura 20 giugno 79 4 maggio 83 si sono succeduti il governo fanfani governo spadolini spadolini ancora forlani e cossiga poi abbiamo avuto la nona legislatura che va dall'83 all'87 in cui abbiamo avuto il governo fanfani sesto sesto governo il governo craxi secondo e infine un altro governo craxi decima legislatura luglio 87 febbraio 92 abbiamo avuto il governo andreotti andreotti sesto settimo demita e goria undicesima legislatura aprile 92 gennaio 94 abbiamo avuto amato e ciampi 12esimo governo 94 96 abbiamo avuto berlusconi 1 e dini successivamente abbiamo avuto la tredicesima legislatura dal 96 al 2001 in cui abbiamo avuto prodi abbiamo avuto d'alema d'alema 2 e amato 2 successivamente abbiamo avuto berlusconi 2 berlusconi 3 dal 30 maggio 2001 al 27 aprile 2006 successivamente abbiamo avuto il governo prodi 2 fino al 2008 poi abbiamo di nuovo avuto berlusconi berlusconi dal 2008 al 2012 abbiamo avuto berlusconi e poi monti successivamente abbiamo avuto letta renzi gentiloni fino al 2018 dal 13 al 18 successivamente abbiamo avuto conte 1 conte bis e draghi e poi adesso abbiamo la meloni domanda a tutti questi governi appena menzionati cosa hanno in comune perché voglio raccontarvi una cosa un aneddoto sto sentendo in questi giorni dei fortissimi esponenti della destra della destra intesa come giorgia meloni notevolmente delusi da tutto quello o comunque da gran parte di quello che la leader di fratelli d'italia sta compiendo sento dei suoi sostenitori di antichissima data rimasti profondamente scottati da tutte le promesse fatte in campagna elettorale e una dopo l'altra non portate a termine non portate a verità quindi questa mattina stavo parlando con un mio cliente un mio cliente che è praticamente da sempre di sinistra e ormai in pensione mi raccontava del fatto che lui grosso modo fin dal dai governi più antichi quindi abbiamo visto vi ho fatto una piccola carrellata dal 79 fino ad oggi comunque sia anche sotto il governo berlusconi ha sempre avuto degli aiuti dallo stato e se noi andiamo a vedere tra case popolari tra sussidi tra per andare ancora più recentemente redditi di cittadinanza tra per gli ambienti un po' più alti appalti tangenti ed altre cose la sinistra grosso modo anche se magari ha deluso piccoli aspetti dei suoi elettori di sinistra che avevano magari delle aspettative più estremiste rispetto a quello che poi è stato fatto nella storia i sostenitori della sinistra e i sostenitori della sinistra probabilmente anzi diciamo così matematicamente sono quelli che hanno sempre sono quelli che hanno sempre sempre volenti o nolenti avuto qualcosa in più dai governi succedutesi fossero di sinistra fossero di centro e fossero di destra gli elettori della sinistra gli elettori della sinistra probabilmente anzi ripeto come ho detto prima matematicamente sono gli elettori più furbi perché la sinistra può avere per alcuni aspetti deluso loro ma li ha sempre in qualche modo sempre in qualche modo ricompensati voi pensate se ad esempio per dire il percorso più vicino a noi un governo berlusconi che era sfacciatamente di destra ditemi se non ha deluso in tutto o in gran parte il suo elettorato pensate solo a quello che hanno fatto con l'agenzia delle entrate e riscossioni approvata durante il governo berlusconi pensate a tutti gli altri non parliamo di governi di sinistra non parliamo di Letta, Renzi, Monti e via discorrendo sono stati tutti i governi che fondamentalmente hanno sempre deluso gli elettori di destra e hanno sempre in qualche modo piccolo o poco più grande dato qualcosa in più a tutti coloro che rappresentavano la sinistra che rappresentavano coloro che non erano imprenditori coloro che non erano capitalisti coloro che non erano proprietari di case coloro che non erano proprietari di auto coloro che non erano risparmiatori con capitali in tutto quello che voi vogliate chi ha vinto? ecco, la verità è questa dalla storia d'Italia dall'inizio della storia d'Italia ad oggi gli unici che hanno vinto sono gli elettori di sinistra chiaro che nell'assurda guerra che viviamo oggi al popolo italiano quella di cui io vi parlavo il 2 gennaio che vi ho parlato anche i giorni scorsi chiaramente in questa guerra che ormai si sta facendo al popolo italiano anche loro cominceranno a perdere tutti i diritti conquistati pensiamo soltanto al ruolo dei sindacati che è stato se vogliamo inquadrarli nel rispetto dei diritti dei lavoratori eccezionale negli anni 70 medio negli anni 80 mediocre negli anni 90 pessimo dagli anni 2000 ad oggi e oggi neanche voglio voglio aggiungere parole perché poi se pensiamo soltanto ai rappresentanti di CGL e Cisleville oggi veramente ci drizziamo i capelli in questo modo veramente una cosa allucinante quindi in tutta questa guerra fino ad oggi i vincitori sono stati coloro di sinistra oggi probabilmente perdiamo e stiamo perdendo tutti quanti senza distinzione ecco hanno creato veramente il comunismo che volevano loro facendo perdere tutti ci vediamo domani ciao a tutti 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 ciao a tutti